Matteo Zopas è il nuovo presidente degli industriali veneti, una nomina che era nell'aria come nell'aria, hanno anche le riserve sulla sua elezione, ma alla fine nella serata di ieri il comitato di designazione, riunitosi a Mestre, ha dato il suo placet. Zopas, 43 anni, già presidente di Confindustria di Venezia Rovigo, è da oggi il nuovo presidente degli industriali veneti, anche se la sua elezione non è stata in dolore, permangono infatti dei dubbi, visto che nella votazione non passano, certo inosservate, le due astensioni delle territoriali di Treviso e Padova. Astensioni che hanno radici lontano, vero ancora nella nascita della sua candidatura a presidente di Confindustria Venezia, considerata allora come ultimo atto dell'alleanza Verona-Vicenza-Venezia, che ha peraltro sostenuto l'elezione di Vicenzo Boccia, leader di Confindustria nazionale, fatto che provocò la spaccatura a Nod-Est tuttora irrisolta. Astensioni ha spiegato alla presidente degli industriali di Treviso Piovesana che vuole essere un atto di fiducia nei confronti di Zopas, il passo successivo sarà però ritrovarsi per condividere gli obiettivi principali, dettando una tabella di marcia. Dal canto suo, il presidente degli industriali di Padova Finco avrebbe invece lamentato la mancanza di un confronto su candidatura e programma. Giudizio sospeso il suo, pronto allo scontro, se non si vedranno novità concrete. Poche le parole spese dallo stesso Zopas dopo la sua nomina, se non che prima serve una condivisione del programma, anche se subito puntualizza che uno dei suoi obiettivi principali sarà quello di ricompattare la squadra. Le parole d'ordine, dice ancora, dovranno essere sviluppo economico e coesione sociale. Un territorio, quello veneto, che per il paese può essere forza trainante sia in tema di sviluppo sia di coesione, ma per essere tale è necessario, spiega, presentarsi uniti per far pesare la propria forza e recuperare il ruolo guida. In questo modo sarà possibile indirizzare le istituzioni verso scelte concrete di politica industriale, in grado di riportare lo sviluppo delle imprese al centro dell'agenda del paese.